L'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è a lavoro per organizzare il cartellone degli eventi natalizi 2021. L'obiettivo è quello di stilare anche quest'anno un ricco programma di appuntamenti e spettacoli di intrattenimento dedicati ai residenti e a quanti decideranno di soggiornare in città durante le festività di Natale. Per la stesura del programma anche operatori turistici, associazioni, cooperative, scuole di danza ed altri enti del territorio che abbiano intenzione di organizzare concerti, spettacoli, mostre, esposizioni, eventi gastronomici o altre iniziative. Le proposte dovranno essere presentate entro il prossimo 2 novembre. Anche quest'anno abbiamo intenzione di promuovere un ricco cartellone di eventi natalizi, spiega il sindaco Adamo Coppola, e per farlo vogliamo garantire la partecipazione delle tante associazioni del territorio che potranno proporre le loro idee, contribuendo a realizzare un programma di qualità che possa essere da richiamo anche per i tanti vacanzieri che ormai scelgono Agropoli non soltanto durante l'estate ma tutto l'anno. C'è voglia di tornare alla normalità dopo due anni di restrizioni dovute all'emergenza Covid, conclude il primo cittadino. Per questo stiamo lavorando per proporre un cartellone di eventi all'altezza delle aspettative, dando tutto il necessario spazio alle tante realtà locali che pure hanno subito gli effetti della pandemia e hanno voglia di riprendere le attività.